Buongiorno! Oggi impariamo a fare lo spelling. Eppele. Voi puoi eppele il vostro pronom, s'il vous plait? Riguardiamo insieme questo piccolo dialogo. Voi puoi eppele il vostro pronom, s'il vous plait? Puoi fare lo spelling del suo nome, per favore? Oui, mon pronom s'écrit A-N-G-E-L-A. Et ton nom s'écrit comment? Il mio nome si scrive A-N-G-E-L-A. Il tuo cognome come si scrive? Mon nom s'écrit R-O-S-S-I. Il mio cognome si scrive R-O-S-S-I. In questo mini dialogo ci sono due modi diversi di chiedere di fare lo spelling. Il primo, vous pouvez eppele votre prénom, che si usa in una situazione formale, quindi quando si dà del lei. E il secondo, ton nom s'écrit comment? Come si scrive il tuo cognome? Questo utilizzato in una situazione informale perché c'è ton nom. Questi sono due modi diversi, quindi come dicevamo, di chiedere di fare lo spelling. E, come abbiamo appunto appena detto, il modo di fare la domanda dipende dal tipo di rapporto che c'è tra le persone, che può essere appunto formale, quindi quando si dà del lei, v in francese, oppure informale e quindi si dà del tu, tu in francese. Quando si dà del lei, si può utilizzare anche la parola Madame o Monsieur nella frase che utilizziamo. Vediamo quindi degli esempi in situazione formale per chiedere di fare lo spelling e poi fare proprio lo spelling. Allora, cominciamo con la prima domanda. Vous pouvez appeler votre prénom, s'il vous plaît? Può fare lo spelling del suo nome, per favore? Oui, bien sûr, M-A-R-C Si, certamente, M-A-R-C Quindi questo è un esempio di risposta. Posso anche fare la domanda chiedendo di fare lo spelling del cognome. Quindi, vous pouvez appeler votre nom, s'il vous plaît? Può fare lo spelling del suo cognome, per favore? Oui, bien sûr, D-U-P-O-N-T Si, certamente D-U-P-O-N-T Quindi, queste sono due domande, una per chiedere di fare lo spelling del nome, l'altra per fare lo spelling del cognome. Quindi, prénom, nome, non cognome. E questa è una possibilità di risposta. Vediamo anche altre due domande che si possono utilizzare per chiedere di fare lo spelling. Sempre relativamente, prendiamo il nome e il cognome come esempio. Quindi, come si scrive il suo nome? Come si scrive il suo cognome? Votre prénom s'écrit comment? Mon prénom s'écrit M-A-R-C Il mio nome si scrive e poi si fa lo spelling. Votre nom s'écrit comment? Mon nom s'écrit D-U-P-O-N-T Queste sono le domande possibili e le risposte. Ovviamente, per fare lo spelling dobbiamo conoscere bene le lettere dell'alfabeto perché, come vedete, sono divisi nello scritto da trattini le lettere che compongono il nome e il cognome e devono essere lette una dopo l'altra. Vediamo adesso l'esempio nella situazione informale. Chiedere di fare lo spelling e fare lo spelling. È la stessa cosa, soltanto che non utilizzeremo il VU, ma utilizzeremo il TU. Quindi, la domanda sarà Tu puoi epeler ton prénom s'il te plé? Tu puoi fare lo spelling del tuo nome, per favore? Oui, bien sûr, M-A-R-C La risposta, come vedete, non cambia. Le risposte sono esattamente identiche a quelle della situazione formale perché ciò che cambia è proprio la domanda. Di là avevamo il VU, qui abbiamo il TU. Di là c'era VOTRE, qui abbiamo TON. Di là c'era SIL VOU PLÈ, e qui abbiamo SIL TE PLÈ. Stessa cosa per quanto riguarda lo spelling del cognome. Quindi, tu puoi epeler ton nom s'il te plé? Oui, bien sûr, D-U-P-O-N-T E possiamo anche qui fare la domanda per chiedere come si scrive il nome o come si scrive il cognome. Quindi la domanda sarà Ton prénom s'écrit comment? Mon prénom s'écrit M-A-R-C Ton nom s'écrit comment? Mon nom s'écrit D-U-P-O-N-T C'è poi una domanda che va bene un po' sempre che è quella del come si scrive. Questa la possiamo usare sia sul nome che il cognome. Quindi, comment s'écrit ton prénom oppure votre prénom, votre nom? Sa s'écrit M-A-R-C Oppure, comment s'écrit ton nom oppure votre nom? Sa s'écrit D-U-P-O-N-T Oppure, semplicemente per chiedere di fare lo spelling di una qualsiasi parola. Per esempio, comment s'écrit livre? Sa s'écrit L-I-V-R-E E se è una parola delle doppie, come si leggono? Si legge DE più la lettera. Facciamo degli esempi DE-B, DE-C, DE-D, DE-T, eccetera eccetera. Bisogna stare attenti a fare la liaison con alcune lettere che quando si pronunciano iniziano con una vocale quindi F, L, N quindi sarà DE-ZEF, DE-ZEL, DE-ZEN Sentite la differenza tra DE-B e DE-ZEF Vediamo questi due esempi qui sotto leggiamo Camille e leggiamo Philippe C-A-M-I-DE-ZEL-E E l'altra P-H-I-L-I-DE-P-E-E se una parola invece ha dei segni diacritici quindi degli accenti come si legge? Si legge la lettera più il segno per esempio questa si legge E, accent aegu E, accent grave A, accent grave U, accent grave E, accent circonflex A, accent circonflex O, accent circonflex E, tre ma I, tre ma C, sediglia fa principle Facciamo degli esempi. La parola élève. E accent aigu, L, E accent grave, V, E. La parola hotel, H, O accent circonflexe, T, E, L. Et la parola francais, F, R, A, N, C, cedille, A, I, S. Vediamo altri esempi. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit G, O, deuxième, E. Come si scrive? Si scrive G, O, M, E. Questo per chiedere lo spelling per esempio della parola gomma. Oppure in situazione informale chiedere di fare lo spelling del nome. Tu peux appeler ton prénom s'il te plaît? Oui, L, U, C, I, E. Oppure in situazione formale chiedere di fare lo spelling del cognome. Vous pouvez appeler votre nom s'il vous plaît? Oui, mon nom s'écrit D, U, V, A, L. À bientôt! Écoute et répète Alleniamoci con la pronuncia. Ascolta e ripeti. Vous pouvez appeler s'il vous plaît? Vous pouvez appeler votre nom s'il vous plaît? Vous pouvez appeler votre nom s'il vous plaît? Oui, bien sûr! M, A, R, C Votre prénom s'écrit comment? Mon prénom s'écrit M, A, R, C Mon nom s'écrit D, U, P, O, N, T Tu peux appeler ton prénom s'il te plaît? Tu peux appeler ton nom s'il te plaît? Oui, bien sûr! M, A, R, C Oui, bien sûr! D, U, P, O, N, T Ton prénom s'écrit comment? Mon prénom s'écrit M, A, R, C Ton nom s'écrit comment? Mon nom s'écrit D, U, P, O, N, T Comment ça s'écrit? Ça s'écrit M, A, R, C Ça s'écrit D, U, P, O, N, T Ça s'écrit L, I, V, R, E Le doppie Deux Puis la lettera Deux B Deux C Deux D Deux T Deux Zèf Deux L Deux N Segni diacritici. Accent circunflexe. E, tréma. I, tréma. C, cédille. A bientôt!